Fare un selfie con il gruppo statuario dell'ultima cena e vincere un soggiorno per la settimana santa di Pasqua a Caltanissetta è possibile in questi giorni al cluster biomediterraneo dell'esposizione universale in corso di svolgimento a Milano. La vara di Caltanissetta e il concorso Taste Selfie Wind Sicily sono stati presentati ai visitatori dell'esposizione universale dal sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo e dall'assessore all'innovazione e sviluppo Massimo Bellomo, presente il presidente della Proloco Nissena Giuseppe D'Antona. Tantissimi già i selfie realizzati e inviati. L'ultima cena è la splendida opera statuaria di Francesco Biangardi ispirata al cenacolo di Leonardo da Vinci che insieme ad altri 15 gruppi sfila per la processione dei misteri pasquali che si svolge il giovedì della settimana santa di Caltanissetta. Il concorso Taste Selfie e Wind Sicily offre ai turisti e viaggiatori l'opportunità di vincere 15 soggiorni vacanza in Sicilia durante la settimana santa di Pasqua e 15 confezioni con prodotti alimentari a chilometro zero di aziende nissene. I vincitori saranno scelti tra coloro che avranno effettuato un selfie con l'ultima cena durante la visita in Expo e inserito l'immagine fotografica sulla pagina facebook dedicata al concorso entro il 31 dicembre 2015. I nomi dei fortunati che hanno aderito alla promozione di un viaggio in Sicilia all'insegno della religione, la cultura, antropologia, gusto e tradizioni saranno resi noti il 15 gennaio 2016. Caltanissetta qui rappresenta la tradizione più importante delle celebrazioni della settimana santa in Sicilia. Qui è rappresentata appunto uno dei 16 gruppi statuari che sfila il giovedì santo e che proprio rappresentano la passione di Cristo e questo avviene in un'atmosfera di grande devozione popolare dove si mixano insieme la tradizione ma anche il cibo ed è proprio per questo che siamo qui anche per rappresentare quest'opera d'arte che appartiene a uno dei ceti storici della città di Caltanissetta che è quello dei panificatori. Assieme a questo abbiamo cercato di promuovere tutto il territorio e abbiamo chiesto di partecipare a un concorso soprattutto utilizzando il linguaggio dei giovani attraverso i selli.